Penso che per la recitazione fare una scuola sia importante perché è la base e questo la Paolo Grassi te lo dà nel senso che studi la tecnica soprattutto al primo anno. La caratteristica della Paolo Grassi è che ha tantissimi corsi, drammaturgia, regia, recitazione, corso operatori che sono quelli che vendono gli spettacoli e quindi è una possibilità di incontro di scambio che in Italia non esiste. Si continuano a fare laboratori, chiamato appunto laboratorio permanente, cioè vengono registi, si fa laboratori con ex allievi. Se sei della Paolo Grassi sanno che è una certa preparazione. Dalla Paolo Grassi sono usciti molti gruppi teatrali con cui si può collaborare e poi comunque per qualsiasi tipo di produzione a Milano e Nonna molti registi chiamano la Grassi per chiedere attori. Cercano di procurarti quindi loro agganci, provini e la cosa fondamentale è appunto quella che se hai lavorato con registi durante i tre anni è una carta in più nel senso che hai la possibilità di avere incontrato un regista magari importante, devi avere già lavorato con lui e quindi anche quello è un aggancio lavorativo. Devi cercare di fare tantissimi provini, tantissimi laboratori, di farti conoscere, quindi insomma devi sbatterti tanto e il fatto che ti abbia fatto la scuola non vuol dire che tu sia un attore.